Cari amici, registro questo messaggio di venerdì, il giorno della Passione, il giorno anche della Via Crucis, che celebreremo nelle nostre case quest'anno, pensando a quanti sono impegnati in un percorso in salita, ai quali ci avviciniamo anche con la preghiera. Alcuni parroci hanno inventato, si sono inventati delle modalità digitali, ad esempio alcuni brevi pensieri di 5 minuti da consegnare ai loro parrocchiani attraverso YouTube, Facebook o altri mezzi. Una riflessione, quasi una pillola, un alimento spirituale per ogni giorno. Ora forse si può fare anche un passo in più, si può chiedere ai laici, ai parrocchiani che rispondano, magari con dei brevi messaggi, oppure registrando anche loro qualche video da condividere, prendendo spunto da quanto la parola del giorno ha detto loro. E così questi contributi potranno alimentarsi a vicenda in una vera e propria condivisione comunitaria. Domani abbiamo un'altra idea e ci risentiamo.